benvenuti a questo nuovo episodio di uplife podcast il podcast dei giovani di Ascoli mi sbaglio pure perché sono emozionato sembra di stare su una moto perché siamo qui con Kevin Sabatucci ciao a tutti ragazzi ecco siamo qui proprio per parlare un po' di moto perché io sono totalmente inesperto cioè io quando parliamo di moto io non so niente che ce lo devi spiegare tu allora io a livello di moto pure io ho zero però tipo c'è una vespa 50 special quindi con le marce un po' mi ci spasso niente non è niente non è anzi anzi che ci dici no dai innanzitutto grazie per l'invito per l'ospitalità e niente parliamo un po' di moto in generale introduciamo quello che io ti giuro non so niente ma penso anche chi ci ascolta potrebbe essere utile no probabile che molti non lo sappiano perché non è uno sport diciamo è seguito ma molti non non ne sono tanto al corrente di quello che gira intorno a sto mondo quindi ci sta tranquilli tranquilli proviamo a dare un'infarinata generale infarinata innanzitutto sono Kevin piacere a tutti quelli che ci seguono da casa e come molti sanno magari altri non sanno partecipo nel mondiale su sport 300 e ho iniziato quando ero piccolino perché da già da quando avevo due tre anni vedevo le gare in televisione con papà valentino rossi tutte queste cose qua mi sono appassionato subito e all'età di sei anni sono salito per la prima volta su una moto e da lì è iniziato questo percorso questo percorso personale che poi ti ha appassionato sempre di più ancora oggi continua e mi sto invecchiando quanti anni hai ora 24 ma anche qua in regia si arrabbiano la regia ma qua 24 anni in mondo sport cominciassi vecchiotto quindi 24 anni ma quando è che puoi dire di essere entrato ufficialmente nel mondo del motociclismo cioè qual è il passo no esatto che dovuto fare il passo che diciamo ti proietta verso il mondo dei grandi del motociclismo è quando passi dalle mini moto comunque le ruote piccole alle moto un po più grandi e per quanto riguarda me è venuto all'età di 13 anni che sono passato appunto nella 125 che è la prima moto grande che ho auguriato e da lì posso dire che è iniziato un po più seriamente perché magari fino a lì era un gioco no sai sei piccolo è una passione per quelli che giocano a calcio e ho anche giocato a calcio tra l'altro e quindi magari fino a lì era una semplice passione un divertimento e ti ritrovi a un certo punto a fare uno switch mentale che se lo vuoi fare come lavoro a livello professionale devi cambiare mentalità e non è facile perché comunque a 13 anni sei ancora un bimbo quindi cavolo tu dai 13 anni in poi sei passato a livello professionale nel mondo del motociclismo diciamo semi professionale perché io considero professionalismo quando tu fai solo quello nella vita ti reddichi a quello e sei anche pagato per fare quello quindi ad oggi tu sei effettivamente un professionista no no perché non non riesco ancora a guagnarci a vivere ecco ok quindi è a livello professionale dal punto di vista di allenamenti dedizione lavoro a casa però per quanto riguarda il lato economico ancora no io credo comunque chiunque abbia l'opportunità di poter lavorare nel mondo dello sport credo che nella vita è riuscito però deve fare tanti sacrifici immagino però sai li fai volentieri perché io li faccio volentieri nonostante non prendo un euro per fare questo sport perché è quello che mi è sempre piaciuto fare che ti appassiona poi no? certo è dura perché non è facile non è facile combaciare tutto perché appunto non guadagnando dei soldi vado anche a lavorare quindi mi divido tra allenamenti, lavoro, amici, ragazza e non è facile combaciare tutte queste cose gli allenamenti di un motociclista, si dice così? sì sì motociclista, giusto? sì ma vai tranquillo non ti correggo anche se sbaglio, vai tranquillo sbaglio? no 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 è giusto no no però correggimi perché sono curioso di imparare gli allenamenti in cosa consistono? ma gli allenamenti a differenza di quello che può essere per esempio un calciatore che sta tutti i giorni a contatto col pallone quindi a modo di migliorare la tecnica non lo so, tante cose ok il motociclismo in generale è uno sport diciamo privilegiato perché è uno sport molto molto costoso e quindi non tutti in questo caso anche io hanno la possibilità di stare tutti i giorni in moto immagino e quindi la maggior parte del lavoro, il lavoro più grande lo fai a casa andando in palestra andando a correre a piedi, comunque tenendo una forma fisica al più alto livello possibile idonea e i costi principali che c'erano dietro al mondo, il motociclismo? eh qui avremo un mondo avremo un mondo, sfondiamo una porta avremo un mondo che tanti per esempio che anche mi conoscono da tanto tempo pensano che io guadagno un sacco di soldi questo sport ma in realtà non è così anzi ok i costi poi variano anche da categoria a categoria, da campionato a campionato però diciamo che chi guadagna veramente tanti soldi è chi sta in moto GP che è la massima espressione di questo sport o anche in superbike comunque nel mio livello per esempio riuscire a guadagnare soldi significa avere magari tanti sponsor che ti aiutano in cui tu riesci a pagarci la stagione e a farci un guadagno e il rapporto con gli sponsor è complicato? nel senso riesci ad avere fiducia da parte di attività, gestione, aziende che ti danno una mano? guarda, ti posso dire, in Ascoli non è semplice perché fortunatamente, io dico anche perché è giusto che sia così è una città molto, come ti posso dire, attaccata al calcio quindi, anche dal mio punto di vista ho accontato perché mi piace il calcio ho giocato a calcio, con la squadra di calcio però dall'altro lato toglie tante risorse a quelli che sono altri sport come il mio o come, che ne so, la palla a volo mi vengono in mente queste forse dovremmo anche un po' cercare di informare di più sugli altri sport come stiamo cercando di fare oggi purtroppo sì, diciamo negli ultimi anni, anche grazie per esempio nel mondo delle moto a Fenati, comunque che ha portato un po' Ascoli in giro nel mondo si sta piano piano allargando oltre al calcio però non è obiettivamente facile in Ascoli trovare chi ti aiuta per raggiungere un sogno che in questo caso il mio è quello di corre con le moto che poi anche ad Ascoli non ci sono piste in particolare dove tu ti alleni magari cioè devi andare comunque fuori io non mi alleno mai, nel senso che in moto, appunto collegandomi alla domanda sua, in moto non mi alleno mai perché ha costi folli, già solo comprare una moto è una bella spesa di quelle proprie professionali esatto, quindi io l'unica volta che vado a girare è quando il team organizza giornate di test in pista o alle gare in genere io sono abituato che il giovedì arrivo in circuito per le gare il venerdì ho le prime prove e la domenica quando scendo se ne riparla poi la gara dopo quindi in moto ci vado molto poco invece le difficoltà in corsa, nel senso durante la gara io sento poi anche molti problemi ho sentito problemi personali, ad esempio Valentino Rossi con Marquez c'è tanta rivalità? C'è proprio... ci si scanna? nel mondo delle moto in generale sì ma nella categoria che faccio io ancora di più perché molti che non la seguono non la conoscono ma amici miei che magari hanno iniziato a seguirla perché ci corro io e mi dicono ma come fate voi siete matti perché è una categoria dove la cilindrata è bassa quindi sono moto molto simili che non fanno altissime velocità e in più è comunque un mondiale siamo 32 piloti dal primo al 32esimo siamo tutti forti quindi ci ritroviamo spesso a fare gare di gruppo di 20-25 piloti e la rivalità è tanta perché chiaramente tutti vogliono arrivare dove non riesce magari neanche a fare previsioni di un eventuale podio ma guarda io negli ultimi tre anni sono stati più le volte che sono stato buttato a terra che quella che ho finito le gare quindi purtroppo non è facile tutti vogliono andare lì per vincere cavolo normale purtroppo però vince uno solo è quello il brutto anche l'ultima gara che ho fatto due settimane fa a Barcellona mi sono tornato a casa dopo due giorni d'ospedale che è successo? come al solito durante la gara hanno voluto esagerare un po' troppo come fanno spesso e ci ho rimesso io che non c'entravo nulla ma va bene così questo lo rivediamo anche noi ad esempio facendo gli arbitri nelle categorie inferiori che è molto difficile salire cioè proprio ci si scanna tantissimo una guerra e quindi la correttezza passa in secondo piano comunque dai la rivalità con la sana secondo me è quella che poi porta a frutto sì però io penso che nella mia categoria ogni anno diventa sempre peggio diventa sempre meno sana perché si fanno cose proprio fuori da ogni immaginazione quindi secondo me viene anche a mancare un po' il rispetto che per quanto mi riguarda è una concezione fondamentale nel mondo dello sport però non tutti siamo uguali quindi ci adegueremo che bisogna fare c'è un tuo idolo? Valentino Rossi il mio idolo di sempre da quando ero piccolo è stato Valentino Rossi però per modo di guidare per come cioè per me è un talento esagerato un fenomeno market ok quindi se ti dovessi di se mi dicessi come chi vorresti essere in moto market ok nel frattempo ti invitiamo a scrivere quello che è lo diciamo intanto un segreto un segreto sceglilo vedi tu ti passiamo a carta è dura eh segreto carta è calamaio è un sogno allora adesso tu con calma te lo scrivi fai quello che vuoi ti diamo un minutino di tempo io adesso intanto prendiamo tempo e ricordiamo e ricordiamo ricordiamo a tutti di seguirci sui social di iscriversi al canale youtube esatto dipende da dove ci ascoltate su spotify continuate a seguirci perché ne vedrete delle belle esatto esatto poi io vorrei ringraziare di nuovo Radio Ascoli che ci dà l'opportunità di registrare scrivo un po' di merda non fa niente ah va bene non fa niente io vorrei ringraziare di nuovo dicevo Radio Ascoli per appunto registrare qui in questa fantastica sede dietro questi microfoni professionali queste cuffie che ci dà l'opportunità ringrazio anche Luca Gabrielli che è dietro di noi che ci fa l'ok e tutto il team di Radio Ascoli che poi pubblica questi podcast anche nel loro sito quindi se qualcuno li vuole ascoltare seguite anche loro esatto seguite anche loro grandissimo oppure il giovedì in onda alle 6 e mezza su Radio Ascoli giusto 6 e mezza giusto 4 e 10 4 e 10 io non ricordavo che era 4 e 10 però era una gaffa per prendere tempo perché così adesso noi parliamo e intanto lui sta scrivendo ma sta scrivendo proprio un papiro il sogno l'ho fatto il segreto il segreto dai ci siamo ci pensiamo dai in genere ci fanno segreti ma non mi vengono in mente adesso ci penso un attimo a me vai vai intanto ti vorrei chiedere qual è la più grande differenza che tu trovi a livello di di motociclisti proprio tra la tua e la tua categoria e la MotoGP bene innanzitutto il percorso chi arriva in MotoGP ha fatto percorso come me da piccolo ovvero quasi tutti ormai hanno iniziato all'età di 4 5 6 anni e percorso come il mio quindi mini moto mini GP 125 moto 3 moto 2 è totalmente differente l'approccio il metodo di lavoro calcola che loro sono proprio come dicevo prima sono professionisti pagati per quello quindi loro magari durante la giornata non è che devono stare oddio però devo andare a lavorare cioè loro si alzano e hanno l'obiettivo che è chiaro è quello lì quindi si allenano magari 2-3 volte al giorno quindi sotto questo punto di vista è un po' più facile hanno anche più possibilità economiche di potersi allenare in moto chiaramente il divario che si crea tra magari uno un ragazzo come me che fa una categoria inferiore e uno della moto GP si vede perché loro vivono solo per quello certo cosa che io non riesco a fare no vabbè certo però comunque ad esempio come loro hai detto prima sei andato a Barcellona qualche giorno fa 2 settimane fa com'è viaggiare cioè riesci a goderti i posti in cui vai oppure vai là fai quello esci vai via è una domanda che mi fanno in tanti dipende dipende in genere nel 90% dei casi no perché comunque parto il mercoledì in genere e il giovedì se già in circuito c'è da fare tutte le varie interviste le cose vabbè riguardanti sempre in circuito il mondo il mio mondo meeting con i tecnici giro di pista a piedi queste cose poi venerdì prove libere sabato qualifica e gara domenica gara 2 in genere la domenica sera o lunedì torniamo a casa poi capita che ne so la gara in portogallo l'ultima dell'anno che rimaniamo 3-4 giorni in più allora me la guado un po' di più certo ti fa un bel giro però no al di là del fatto di la scocciatura di prendere la macchina andare all'aeroporto prendere l'aereo e tutto il resto purtroppo te lo paghi da solo? sì lo pago da solo nel senso che ho degli sponsor che mi aiutano che ringrazio tra l'altro tra le varie cose esatto che se non fosse per loro io non mi potrei permettere di correre se vorreste anche sponsorizzare noi noi siamo noi siamo super disponibili però comunque se non ci fossero loro dovresti pagarti tutto da solo sì se non ci fossero loro non correrei pure tra le varie cose diventerebbe un po' più complicato io ti volevo domandare una cosa quando parti poi? parti insieme al team no? no partiamo io quest'anno per esempio ho sempre corso con squadre italiane ok e quest'anno invece sono per il primo anno con un team straniero che loro sono francesi ok e quindi no io parto in genere con mamma e papà perché loro mi vogliono seguire tutte le gare certo certo beh è normale la passione è un figlio sì ci sta ci sta e quindi no loro partono per cavoli loro io per cavoli miei e poi ci vediamo ah poi vedete lì ma una volta che vi incontrate descrivici un po' come è fatto il team chi si occupa di cosa e i ruoli interni magari come viene gestito diciamo c'è una linea generale ma poi varia da team a team ok come sono organizzati però per esempio nel mio team quest'anno ci sono siamo due compagni in squadra quindi ho un compagno in squadra che è spagnolo ok e ogni moto ha due meccanici e c'è il capo del team il camionista che oltre a fare il camionista fa anche da jolly ovvero tipo serve smontare le gomme portare le gomme c'è sempre lui che dà una mano e ci sono oltre a lui un altro jolly che dà pure una mano quindi si può dire tre persone per moto e in più c'è il capo tecnico che è quello che diciamo fa come posso spiegare che gestisce un po' dall'alto esatto gestisce un po' dall'alto tutto ed è lui il responsabile di quello che succede all'interno del box e c'è anche un telemetrista che è colui che attacca diciamo il computer ha la centrale della moto scarica i dati lavora sulla moto mi fa vedere al computer per esempio tramite la telemetria cosa sbaglio cosa non sbaglio queste cose qua e quindi dai diciamo è gestito più o meno così ma tu come lo scegli il tuo team ma in realtà cioè lo devi scegliere tu no? no allora se c'hai una grossa disponibilità economica te lo scegli tu nel senso chiaramente se se non va di a spese puoi anche cercare di contattare il team più forte e magari ti prendono perché c'hai soldi se no in genere sono diciamo più i team che fanno si propongono i piloti e quindi sono più loro che scelgono su chi puntare e poi se sei bravo o meno cioè in base a quanto sei bravo magari invece che chiederti 50 ti chiedono 10 e viceversa capito oppure se magari hanno in genere le squadre del mondiale dove corro io fanno sto ragionamento avendo due posti moto prendono uno che magari paga un po' di più e un altro che è più bravo e che paga di meno in modo che quello che paga di più paga anche per quello che è più bravo capito è una gabbia di squali è un disastro e quindi non è facile non è facile poi immagino che si fanno anche tanti errori perché quando in un team magari può capitare che qualcuno si sbaglia c'è qualche esperienza passata dalla faccia secondo me è capitato è capitato anche quest'anno le prime uscite con il team che fortunatamente non era nel campionato proprio abbiamo fatto qualche test è capitato qualche disguido però dai ci sta e io mi vorrei collegare a una domanda che ti volevo fare già da prima nella tua carriera se dovresti definire l'errore più grande che hai fatto fino ad oggi c'è magari un errore una cosa che magari se tornassi indietro non rifaresti sì perché ho avuto secondo me adesso che sono più grande a Mente Lucida secondo me ho avuto l'opportunità di diventare veramente professionista ok perché quando vi ho detto che sono passato dalle ruote piccole alle ruote grandi nel mondo dei grandi a 13 anni sono entrato con il team del papà di Marco Simoncelli che è morto nel 2001 ci stavo pensando prima Marco Simoncelli e sono entrato con lui totalmente a gratis cioè ho fatto tre anni con lui non pagando un euro e lui aveva l'obiettivo di portarmi avanti e poi un po' perché diciamo lui ha cambiato il suo scopo era aiutare i giovani perché avendo avuto una storia simile alla mia col figlio che lui ha dovuto ipotecare la casa la geateria per far correre il figlio e il figlio è riuscito poi comunque a svoltare è arrivato in moto GP poi è successo quello che è successo però il suo obiettivo era appunto all'inizio una volta dopo che era morto il figlio di continuare in questo mondo ad aiutare i giovani come il suo figlio ha creato un'associazione se non sbaglio una fondazione e un team e appunto il team l'ha creato con me un altro ragazzo che correvamo gratis e mi ha fatto fare tre anni in cui nel primo appunto sono entrato nelle ruote alte e per me all'esordio nel mondo dei grandi comunque ho finito secondo nel campione italiano dietro a uno che adesso sta in moto 2 ed è primo nel mondiale moto 2 il secondo anno questo qui che ha vinto è venuto nel mio team ed è stato il mio compagno in squadra e ci siamo giocati diciamo le vittorie poi di tutte le domeniche per poi passare nel terzo anno in moto 3 nel campione italiano dove ho fatto un sacco di fatica ma tanta tanta e come dicevo lui un po' secondo me ha cambiato rotta del suo pensiero perché non è poi è stato coerente con quello che era l'obiettivo di questo team e in più io un po' mi recrimeo il fatto che probabilmente non abbia messo il 110% in tutto e un po' lo do la colpa anche all'età nel senso è che io mi sono ritrovato a fare le gare da piccolo con papà e mamma col camper partiamo così mi faceva tutto papà che si sportava a vita le vidi un disastro ecco come dicevo era un divertimento mi sono ritrovato in un contesto in cui Italia 1 Mediaset Sky perché appunto comunque stavo in un team importante subito dopo la morte del figlio diciamo a 13-14 anni non ho saputo magari gestire la pressione che c'era dietro esatto anche i miei purtroppo non mi hanno aiutato perché anche loro sono ritrovati un po' come dei pesci in mezzo agli squali e sicuramente io a livello personale avrei potuto fare molto di più poi magari sarebbe andato a finire uguale però almeno potevo dire io ho fatto questo magari è il più grande rimorso che hai esatto e invece la domanda opposta no il giorno più felice cioè quando vai la tua più grande soddisfazione esatto la tua più grande soddisfazione ma la mia più grande soddisfazione è stata senza dubbio il 7 luglio del 2019 che ho vinto diciamo alle sordi perché era il mio primo anno del mondiale 300 dove sono adesso ho vinto la gara in Inghilterra e dopo una prima parte di stagione veramente difficile in cui venivo dall'anno precedente che nel campione italiano avevo fatto 9 podi su 12 gare mi ero giocato l'italiano fino all'ultima gara avevo fatto una gara come wildcard nel mondiale a Imola avevo fatto podio e quindi dovevo essere uno non ti dico che doveva vincere all'esordio però dai nel senso uno esatto eri in un periodo vincente esatto invece mi sono ritrovato all'inizio stagione con un sacco di problemi un sacco di cose risolve e spesso mi è capitato anche di non fare le gare quindi è stata un po' sei passi dalle stelle proprio alle stalle è stata demoralizzante invece stavano riuscito grazie alle persone che c'avevano anche di fianco ritrovare un po' la forza motivazione ok e vincere in Inghilterra è stata una bella soddisfazione cavolo tutto questo mi fa pensare che alla fine ci vuole anche fortuna non lo so perché guarda allora sicuramente come tanti dicono ci vuole talento passione e culo ce lo vuole però con gli anni sto maturando anche un po' l'idea del fatto che la fortuna un po' te la crei in base alle scelte alle cose che si fanno secondo me devi creare opportunità perché più opportunità ti crei più ampli la visuale e più ricevi magari occasioni importanti quindi di conseguenza la fortuna viene dall'altra parte faccio l'esempio di fortuna quando ti dico che un po' te la devi creare esempio io ti posso dire mi sento sfortunato perché è due anni in due anni su dieci weekend di gare mi hanno steso cinque quindi la metà delle volte e tu dici non è che sto caputo io mi hanno steso gli altri però magari mi pongo la domanda so io che corro in una maniera sbagliata nel senso io cerco sempre di essere di ragionare una della gara di fare le scelte giuste e tutto quando magari gli altri vanno non le fanno vanno a cervello spento e fanno i casini allora non è che magari devo guidare così per evitare di rimanere in incidente per questo ti dico magari la sfortuna un po' te la crei ma parlando di incidenti poi il discorso sicurezza cioè diciamo tu ti senti sicuro sulla moto oppure perché prima abbiamo parlato anche di Simoncelli che lui è anche stato sfortunato poi non mi ricordo bene che succede però è stato sfortunato sì se mi ricordo bene la sicurezza tu ti senti sicuro stare sulla moto? guarda io fino all'anno scorso non non ho mai pensato di poter tra ripetere lo voglio lo dico chiaramente di poter morire in moto nel senso tutti noi che corriamo in moto lo sappiamo che c'è questa possibilità perché è uno sport pericoloso però non ci pensi non ci pensi quindi ma non perché non ci pensi se è lì che c'hai altri obiettivi non pensi a morire se no stavo a casa però negli ultimi negli ultimi due anni per esempio l'anno scorso l'ultima gara e due anni fa la prima ultima gara sono morti due ragazzi nella mia categoria appunto perché secondo me stiamo un po' passando il discorso che facevo prima che inizia a mancare un po' il rispetto da parte degli altri piloti esatto che non si guarda più in faccia a niente capito e quindi non è che non mi sento sicuro però più che non mi sento sicuro non mi sento tutelato dalla direzione gara che dovrebbe aiutarci a placare gli animi invece fanno poco ma come sono morti? in gara principalmente tanto nel mondo delle moto è il modo diciamo uno forse l'unico modo per morire è rimanere in mezzo alla pista e vieni investito dagli altri chiaramente essendo come dicevo prima una categoria in cui le prestazioni sono molto limitate e siamo tutti molto vicini capita spesso che per contatti o anche per scivolate rimani in mezzo alla pista e quando ti trovi in un gruppo di 20 piloti 5 ti possono evitare ma poi arriva quello che ti prende sai il destino a volte non ci puoi fare niente però su tante cose tipo su quello che può essere magari un po' più la correttezza ci si può lavorare quello si per forza poi anche la direzione di gara come dici tu è una cosa molto giusta per noi che facciamo gli arbitri noi oltre che arbitrare dobbiamo anche garantire la sicurezza no ma poi nel nostro caso devono anche educare perché adesso io ho 24 anni ma ci sono anche ragazzini perché il mondiale 300 si può fare da 16 anni e io mi rimetto quando avevo 16 anni io non pensi a niente nel senso vai entri e quindi diciamo un po' il compito anche della direzione di gara è educare i ragazzi che cioè non è tutto permesso e concesso ecco allora io ti lascio lei scrivere il segreto perché al momento dai no però ci ha riempito di tante cose interessanti tante cose interessante proprio arricchente poi sai che volevo dire che io ho avuto sempre la percezione che tipo il 90% delle persone che facciano motociclismo ok siano siano delle mila delle mila romagna secondo me vengono tutti dalle mila romagna che poi adesso mandiamo anche un saluto per tutto quello che sta succedendo non sappiamo quando esce questa puntata però noi stiamo registrando proprio in questi giorni sì in questo periodo un po' un po' difficile stiamo vicini comunque tutta playa vicina alle mila romagna per quello che possiamo fare no però io ho avuto sempre questa percezione quando sento un corridore parlare parla sempre con l'accento romagna e io dico sono tutti delle mila romagna invece noi dobbiamo essere felici perché anche ad Ascoli abbiamo i nostri piloti che sono si danno da fare ce l'hai ok ha fatto Maria chiude la busta il segreto è un po' una minchiata però vai 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 vuoi che ando tu ti consegno la busta vado lo leggo io allora adesso stiamo per leggere ci siamo con i tempi ci siamo ok leggiamo prima il segreto il sogno il sogno allora avere un'icona sportiva scolana che faccia conoscere Ascoli in tutto il mondo wow cavolo bello eh non c'è no io ti parlo di icona sportiva proprio un'icona sportiva come può essere Valentino Rossi come può essere Federer Nadal come può essere cavolo esagero tipo un Ronaldo un Messi certo no 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 perché gli sportivi ce ne abbiamo tanti nel calcio abbiamo Orsolini per esempio sì 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 che sta facendo benissimo abbiamo i tennisti abbiamo tutti diciamo gli atleti che fanno atletica abbiamo molti sportivi esatto abbiamo molti sportivi però non c'è proprio un'icona un'icona è vero cavolo tu dici cavolo Ascoli cioè associ questa persona proprio ad Ascoli come può essere Valentino Rossi Tavulli ha capito sì 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 questo è il mio sogno leggevo ieri la notizia che se non sbaglio Ascoli si candida come città europea dello sport sì quindi dobbiamo spingere anche sulla moto è vero no dobbiamo certo assolutamente bisogna anche dire che esiste la moto dobbiamo no c'è ok certo ci sei tu che porti il nome di Ascoli a livello molto ciclistico comunque a proposito di sport c'è da dire che Luca che è tuo no tuo fratello a me va allenato è allenato pure mio fratello ciao Luca era bravo è un grande ma soprattutto per quanto riguarda l'educazione cioè poi vabbè a un bambino a un ragazzino cioè non è che gli devi insegnare essere un altro però l'educazione lo spirito vai tu leggi il segreto l'educazione il modo in cui lo faceva cioè lui era una persona è tuttora una persona di cuore guarda io io mio fratello nel senso non è che cioè ci vogliamo benissimo però nel senso lui adesso vive a casa da solo quindi ci vediamo poco però da quello che sento in giro sì mi hanno tutti parlato bene di lui sì che è un bravo educatore è sempre stato appassionato di calcio Luca il mister Luca il mister allora io ho appena letto il segreto ragazzi e mi sto fischiando era in piano allora siamo in radio quindi alcune cose magari non si possono dire però questo lo diciamo dai lo diciamo allora sono stato ben educato allora a livello scaramantico dovete sapere che il ragazzo in questione per scaramanzia non si tocca mai le parti intime le parti intime cioè tanti dicono quando ti dicono ah tocca ferro tocca ferro sì si tocca però mi raccomando non cade no? tante volte mi capita anche tipo la ragazza mia mi fa oh però non cade e può essere una cosa vista come la gente dice oh toccati no eh si si la cultura italiana nel senso quindi non fai mai neanche le corna no vabbè niente anche quando mi ricordo in bocca al lupo tanti crepi viva il lupo io ti grazie viva il lupo io grazie grazie quindi non sei una persona scaramantica non hai no non tanto cavolo piccole cose tipo ma proprio piccolezze quando quando mi vesto con la tuta metto prima il stivale destro o il posto destro prima il guanto destro ok è solo questo ma non è neanche scaramantica più abitudine è abitudine sì 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 ragazzi siamo giunti alla fine della puntata io ringrazierei tantissimo grazie a voi raga grazie a voi guarda veramente io mi sono trovato un sacco bene più che altro è volato il tempo nel senso esatto siamo arrivati a 30 minuti siamo anche precisi ringraziamo anche Radio Ascoli e nulla ci vediamo alla prossima puntata alla prossima ciao 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 Grazie a tutti.